Abbiamo appena terminato la nostra missione sul territorio con la Commissione Toscana Costiera. Abbiamo sentito il Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino, di Porto del Ferraio e di Rio Marina che ci ha illustrato la portata degli interventi sul porto e sulla parte nuova del porto di Piombino. Noi abbiamo fatto presente i nostri dubbi che riguardavano le vasche di colmata. Abbiamo ricevuto risposte che andremo poi ulteriormente ad approfondire. Ritorniamo a Firenze e siamo sicuri che nelle prossime giornate ci saranno delle interrogazioni relative a quelle che sono anche dei dati che abbiamo raccolto dai cittadini tramite i loro sindaci. State con noi e seguiteci.